good morning anche se dire più buonasera perché sono le 4.20 mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's january 24 2022 and it's monday here in nipols 50 farin at around 10 celsius this means that è quella giornata veramente 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 fredda come in questi giorni in questo periodo ma come sempre invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto qualche settimana fa per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per non per vincerlo che è impossibile ma quantomeno di combatterlo e come ho detto nel report di ieri questa maglietta a mezze maniche in tal senso all'interno di queste pratiche è un qualcosa non questa proprio questa ma in generale la maglietta a mezze maniche è un qualcosa che conta per me all'interno di queste pratiche riguardo i pensieri del giorno si faccio separatamente anyway as you just see from this other window anche se in realtà faccio vedere le inquadrature all'altra finestra perché qui non si vede bene si vede bene today abbiamo insomma come ho visto un bellissimo sole però non posso dire those beautiful blue skies and golden sunshine perché come ho visto ci sono anche diverse nuvole quindi non si può parlare proprio di those beautiful blue skies and golden sunshine però tanto meglio che l'avere la pioggia le nuvole proprio tutto nuvoloso quindi comunque va bene così say this from this other window with the golden curtain bianco oro diciamo tra bianco e oro insomma really beautiful also this window this curtain quindi un'istanza inedita mai fatto il report qui poi forse un giorno spiegherò di che stanza si tratta and it's grey roller shooter and finally from my mythical keyboard yamadi gx 640 ipg 625 have a great day in all the people follow the channel the reports si mi raccomando il video sui pensieri è separato da questo e poi non ho detto le cose con enfasi perché comunque non c'è con ci sono completamente those beautiful blue skies and golden sunshine so again i great day in all these people and everyone too come 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 come